Con il Trentino e la Santorumita vinto una tappa a giro il Trentino e il Trentino conquistato anche il titolo di campione d'italiano. Sono i portacolori della Sky Dive Dubai. Quindi Giuliano Camberai e si procede con gli altri atleti, con l'Emos e con Andrea Palini. Questi sono i portacolori della Sky Dive Dubai. E' un po' un po' un po' un po' che ci sono tutti i campionati. Prima squadra a partire, ripetiamo 18 squadre al via in questa 40esima edizione del Giro del Pensione Melisa. Tutte le formazioni a raggiungere la nostra postazione, la postazione di Foglio Ferro, intanto tanti osti di presenti, tanti osti di presenti, la pazienza anche di questa pasta, due leggende del mondo del ciclismo che onorano, danno ulteriore lusso a questa edizione del Giro del Trentino Melisa. Da Belgio manca l'acqua e potremmo essere così, dentro in questa situazione. Leis, Schoenberger, Fiddy Paulus sono i primi effetti a firmare per quanto riguarda la Tiro, sei che intima, arriva anche Clemens Frankhauser che di recente è sempre segretato in seconda posizione all'ultima tappa della settimana internazionale di Coppe Bar, l'altro informatore dalla quale fa parte anche Walser che firma in questo istante, velocemente arrivano anche gli altri tesi in forza. Fiddy Winger quindi arriva Rich Osman, abbiamo praticamente completato questa rappresentativa anche con Roger De Vrenico, quindi devo essere a posare con gli atleti della Tiro, la Cycling Team. Sollecitiamo tutti i corridori a raggiungere la postazione Poglio Firma in quanto mancano ormai meno di 12 minuti alla partenza, al premaglio della caccia laureale a Segurosevra e Gia. Ci sono ancora diverse formazioni che devono raggiungere la nostra postazione, sollecitiamo, sollecitiamo tutti gli atleti al Poglio Firma. E' arrivato anche il Presidente Giacomo Santini, volevo anche sul palco per favore Don Daniele Laghi che ci saluterà e ci darà una benedizione di buona giornata. Grazie. Scusa.